insomma ve l'ho fatto una specie di unboxing, no perché era già aperto, perché ci ho già messo le mani perché ne ho già parlato con la bisnonna, con la camilla a distanza, con altre amiche e con Alejandra che l'ha solo visto, poi tornerà, faremo questo gioco della scatola quindi preparatevi perché arriveranno due video, perché il primo me l'ha interrotto mia madre e il secondo perché sono arrivata in fondo ma poi ho ricominciato a chiacchierare e mi si è interrotto perché avevo occupato tutta la memoria quindi vi vengo a raccontare dei filati che stavano dentro a questa scatola e più o meno vi racconto cosa ne farò, ma soprattutto vi racconto un po' loro a presto, adesso carico domani, domani riceverete tutto domani, domani, domani ti faccio un regalo